Ogni giorno su Brawl Stars vengono aperti migliaia di nuovi box e di conseguenza vengono trovati anche tanti nuovi brawler Ma oggi reagiremo ai migliori box opening mai fatti su Brawl Stars Spolliciare a più non posso se volete un altro video del genere Ciao a tutti ragazzone e benvenuti in questo nuovissimo video di Brawl Stars Allora raga si parte subito con la prima reaction guardate qui in una mega cassa 10 skip Io ho una cosa del genere non l'ho mai vista 14 power punkte che lingua è Per il signor steca 30 per il signor mortiso attenzione c'è anche la pantofolina sexy non so se la notate pure io c'ho quelle pantofole Nuovo gadget per il signor dynamite raga mancano 3 skip Ancora un altro gadget per Shelly no vabbè Raga quanti gadget gli sta cacciando sta box è assurdo Oltre a tutti questi gadget mi cacci anche la star power di Nita 200 raddoppi aggettoni e 3 gemme Non ho mai visto una mega cassa con tutti questi skip guardate qui escono addirittura fuori dal telefono Raga questa qui assurda si merita subito un pollicione in su Ma si passa subito alla prossima reaction siamo su un profilo di un ragazzo che sta a 9000 coppe Vabbè sta messo abbastanza bene a livello di brawler Ne ha 22 su 33 però vabbè sta a 9000 trofei quindi ne ha di strada da fare Ma attenzione che può aprire una mega cassa quindi dai non farci attendere Parti con l'apertura della mega cassa iscrivetevi al canale cliccando la campanellina 8 skip all'interno della mega cassa E abbiamo 144 mohetbi Non conosco credo sia arabo non so che lingua sia Però vabbè tu vai avanti abbiamo capito che hai trovato 144 monete Però facci vedere cosa vai a trovare Bene ecco con la mega cassa le monete si è bloccato E poi dopo va con gli skip velocissimo ultimi 3 skip Si parte con il signor INX il signore Eugenio Signorina Maxim che si chiama Mac Ok e ultimo skip tar un altro brawler mitico mamma mia raga 3 brawler mitici in un'unica mega cassa anche lui è stato molto fortunato Si procede oddio raga questa qui è una cassa enorme No aspetta ah no no è una mega cassa Trova la star power più il brawler leggendario spy Ma quanta fortuna hanno queste persone Raga votate il sondaggio qui in alto e fatemi sapere se anche voi siete così fortunati su brawl stars Anche se roba del genere è davvero difficile che possa capitare Va bene va a trovare il signor spy che ha addirittura due skip bonus Quindi se ci fai vedere cosa trovi magari delle gemme Ecco biglietti degli eventi che ormai non si trovano neanche più nelle case perché comunque queste qui sono delle clip anche abbastanza vecchie Eccetto quella lì di prima che ha trovato un botto di gadget Vabbè E si passa al prossimo box opening mega fortunato Power up per Shelly e per Penny Cassa enorme Vediamo quanti oddio quanto sta laggando sto ragazzo 3 skip in una cassa enorme 30 nita Raga altri 2 skip aspettate questi qui sono skip fortunati perché troviamo Bea brawler epico Ricordiamoci che è una cassa enorme e non una mega cassa Quella lì che si trova con 10 gettoni Oh mio dio anche il signor mortisio Due nuovi brawler in una cassa enorme Quindi due o più brawler non si trovano solo nelle mega casse Ma anche nelle cassette error vi voglio avere anche io tutta questa fortuna Prossima è una mega cassa 9 skip raga 9 oggetti rimanenti Monete 9 jessi 11 colt 25 bombardino 30 nita Attenzione Allora Signor Barry il primo brawler Signor stecca Secondo brawler Terzo brawler Francuccio raga in un'unica cassa Quarto brawler Piper E quinto brawler Pam Cioè lui si è praticamente completato tutti i super rari e tutti gli epici Con un'unica mega cassa Ma spiegami come fai Eccola vabbè Ormai un'altra mega cassa con 8 skip Signor Barile Signor Carletto Signorina Rosa 42 skip Va benissimo che puoi anche potenziarla E si passa con stecca Che vabbè super raro Abbastanza facile Poi mi trovi anche Frank Che un brawler epico E infine mi trovi Piper Questo qui è stato molto simile al box di prima Anch'esso molto fortunato Eccoci qui nella prossima clip Addirittura questo qui sta registrando dal tele Cioè guardate è completamente rotto sto telefono Però vediamo cosa va a trovare in questa mega cassa Tara 32 power up di Bull Mi sta facendo venire mal di testa Attenzione in una mega cassa BB brawler epico Più pam un altro brawler epico Anche questo qui ha trovato il doppio brawler in una mega cassa Ma quello lì Che ne ha trovati due In una cassa enorme è imbattibile Ok stiamo in un Brawl Stars un pochettino datato E di qualche aggiornamento fa Apri una mega cassa Per 80 gemme Vediamo quanti skip Ok Diciamo che si ritorna un pochettino alla normalità con i 6 skip Anche a me è capitato un bel po' di volte di trovare 6 skip Però attenzione Che all'interno della mega cassa con 6 skip Va a trovare brawler leggendario Spike Non è stato così fortunato Anche se un brawler leggendario è difficile da trovare Attenzione Per questo box opening ci muniamo di cuffiette Perché c'è anche la reazione del ragazzo Ok apre qualche mega cassa e non trova niente Però bro è un botto di gemme Potresti continuare ad aprirne un'altra Sì vai 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 Un'altra mega cassa per 80 gemme Ancora niente Monete e biglietti Questa qui è la mia situazione attuale quando apro le mega cassa Perché mi manca un solo brawler E non trovo neanche più i power up Visto che posso portarli tutti quanti a livello massimo Va con un'altra mega cassa Adesso non so quali brawler Li mancano No Oddio raga però io ho visto due skip Sicuramente ci sarà un altro brawler Una star power Trova Leon all'interno della mega Raga lui sta impazzendo Guardatelo raga Si vede anche lui nella schermata Sta impazzendo Ci credo raga Leon anche io quando l'ho trovato Non ci ho capito più niente Però aspetta bro Non svenire Perché hai ancora un altro skip Potrebbe riservarsi per te un altro brawler Non credo sia leggendario Invece no Raga Va a trovare Corbo In un unico box Due brawler leggendari Corbo e Leon Raga Io sarei svenuto Io non ce l'avrei fatta Neanche più a parlare Raga quanto è stato fortunato No 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 Troppo fortunato Addirittura ha anche un bonus Sta impazzendo lui Ha anche un bonus Vediamo cosa c'è Tipo qualche gel Se ti caccia tipo 20 gemme La mega cassa Clicca il suo bonus Basta parlare Abbiamo capito Che hai trovato due brawler leggendari Ma facci vedere cosa hai trovato Niente E' fuori controllo raga Questa Questo è ciò che succede Dopo aver trovato Due brawler leggendari Non capisci Ah ok Nove biglietti degli eventi Vabbè Si passa al prossimo Questo qui E' una versione di brawl stars Vecchissima Addirittura prima che uscisse Globalmente Oddio raga Aspetta 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 Fatemi ragionare un attimo Allora qui sotto Troviamo i brawl box Sono quelli lì vecchi E le big box Io avevo già visto Il nuovo brawler pump Andiamo a vedere un attimo Più con calma Ok Apre la cassa Blocco Sono praticamente Tre skip Quindi tre brawler Trova pump Non gli fa trovare neanche le monete Più altri Due skip rimanenti Primo brawler Signorina pump Ok Brawler epico In una cassa enorme Hai altri due skip Brawler tara Brawler mitico No raga Se qui Se qui gli caccia Un'altra roba Tipo un altro Brawler leggendario Brawler leggendario Tre nuovi brawler in una cassa enorme Non credo sia più possibile una cosa del genere su Brawl Stars raga Pam Spike che è leggendario E addirittura Tara brawler mitico In una cassa enorme Roba che noi apriamo Quasi una cassa enorme al giorno Lui trova tre nuovi brawler E anche uno leggendario Che è difficile da trovare GG per te bro Sei stato fortunatissimo Ma modestamente Loro non sono gli unici fortunati ad aver trovato nuovi brawler Qui con voi c'è anche il king dei box opening italiano E quindi vi lascio a una mia piccola compilation di nuovi brawler Non me li metto tutti perché ne ho trovati davvero tantissimo In ogni caso trovate tutti i video qui in alto Oddio ragazzi Oddio 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 avevo tolto anche la webcam Non ci credo dopo quanto l'abbiamo trovato Non ci credo Non ci credo No 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 58 bombardino 3 No devi cliccare tu Devi cliccare tu perché l'aperto 2 1 Ooooo 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 Cruel mitico maxi Cruel mitico maxi Non ci credo No 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 Partiamo tranquilli con i brawler No Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo No raga non ci credo Non ci credo Con l'uscita del nuovo brawler Non ci credo al terzo box Non ci credo raga Non trovavo tutti Si fa moro No raga no No raga no Cos'è sto profilo Raga cos'è sto profilo Un altro brawler epico Niente ragazzuoli Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Spolliciate a più non posso Per prossime reazioni del genere E iscrivetevi al canale Cliccando la campanellina Se non l'avete ancora fatto E qui da Gatotone è tutto E noi ci rivediamo Ad un prossimo video Ciao